Il Teatro Manzoni è situato in corso Antonio Gramsci 127. L'origine del teatro risale al 1642, quando l'Accademia dei Risvegliati ottenne un tiratoio dell'arte della lana per realizzare un vero e proprio teatro. Dall'inaugurazione nel 1694 il teatro continua ad essere un punto di riferimento per la cultura a Pistoia ospitando una varietà di spettacoli. Nel 1864, il teatro fu intitolato ad Alessandro Manzoni, che esprimì la sua gratitudine alla città di Pistoia.